Il valore aggiunto dell'International School of Siena è quello di poter offrire ai nostri studenti non solo la possibilità di formarsi in un contesto di scuola internazionale come quello IB, ma anche di vedere riconosciuto il percorso di formazione che hanno fatto per quanto riguarda l'italiano da parte della scuola italiana. Infatti i nostri studenti hanno la possibilità di prepararsi e di affrontare sia l'esame di donità alla conclusione del ciclo primario, sia l'esame di terza media alla conclusione del ciclo secondario di primo grado. Grazie